Buongiorno da Mattino 6 per questo mercoledì 10 agosto. Oggi si ricorda San Lorenzo e allora ci andiamo a vedere la sua storia. Fin dai primi secoli del cristianesimo Lorenzo viene generalmente raffigurato come un giovane diacono rivestito della dalmatica con il ricorrente attributo della graticola o in tempi più certi della borsa del tesoro della chiesa romana da lui distribuito secondo gli aggeografici ai poveri. Gli aggeografi sono concordi nel riconoscere in Lorenzo il titolare della necropoli della via Tiburtina a Roma. È certo che sia morto per Cristo probabilmente sotto l'imperatore Valeriano ma non è così certo che il supplizio della graticola su cui sarebbe stato steso e bruciato sia fondato. Il suo corpo è sepolto nella cripta della confessione di San Lorenzo insieme ai santi Stefano e Giustino. I resti furono rinvenuti nel corso dei restauri operati da Papa Pelagio II e numerose sono le chiese in Roma a lui dedicate. È considerato il patrono dei diaconi, dei cuochi e dei pompieri. L'etimologia del suo nome deriva dal latino e significa nativo di laurento. E allora per questa giornata da parte nostra gli auguri vanno a tutti coloro di nome Lorenzo e a tutte coloro di nome Lorenza. Vediamo i titoli di apertura dei quotidiani, iniziamo dalle pagine del centro. Vermi negli spiedini del market in Asa Montesilvano, famiglia si sente male e finisce all'ospedale. La fotonotizia, la prima volta di Papa Francesco in Abruzzo è al convento di Carzoli, ha pranzato e pregato con le suore. E poi siamo ostaggi di due pitbull, il caso nel palazzo di Via notturno appello di 40 famiglie. Nelle cronache la battaglia dei fedeli, il sacro cuore, salvi, battesimi e comunioni sulle cronache di Pescara. E poi il test 3-0 alla vastese Pescara, ecco le nuove maglie per la Serie A. Già un incidente, il pontile rotto comune chiede la spiaggia libera su Montesilvano. Di taglio alto l'incontro a San Pietroburgo e pace tra Erdogan e Putin, ma resta il nodo a Sad. Rio 2016, il personaggio Bolt vinco i 200 sotto i 19 secondi, sono le mie ultime Olimpiadi. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano, il messaggero sulle pagine dedicate all'Abruzzo in apertura di vieti revocati via ai tuffi. Il mare di Pescara torna balneabile, cessata l'emergenza seguita al guasto delle fogne, il sindaco firma l'ordinanza, ma l'altalena dei provvedimenti disorienta i bagnanti. Regione, il governatore assente da Alfonso un caso, quella sedia vuota. Anche qui la fotonotizia a Carzoli una giornata particolare. Papa Francesco fa visita alle suorine. E poi due università, una ricchezza per l'Aquila. Dopo le critiche il neoreottore Eugenio Coccia difende le potenzialità del Gran Sasso Institute. Di spalla, Pescara regina dello sport, l'Aquila brilla per il rugby. Sesso tra le tombe, vandali al cimitero, sulle cronache di Giulianova. E poi di taglio alto, Pescara, operazione Ferragosto con i Chemical Brothers. Chieti, biblioteca De Meis, cantiere infinito, lavori in corso dopo sette mesi. E poi il Pescara prende forma, si chiama Alberto Aquilani, l'ultima tentazione di Oddo. Ora invece vediamo i titoli di apertura del quotidiano La Città. Aggrediti dai Buttafuori al Gattopardo. La festa del Desartiste rovinata nel finale. Dieci ragazzi al pronto soccorso, sette sono le denunce. A centropagina non c'è l'accordo. Teramo Calcio, rinnovo complicato per Stefano Amadio. E poi presto decollerà anche l'ex FOMA. Giulianova il sindaco rassicura sul progetto ex Saddam. Economia riparte il mercato dell'edilizia. E poi doppia indagine sull'auto dell'ASL in via Irelli. Dal 18 agosto Vittorio Sgarbi ha ospite alla sagra della porchetta italica di Campli. Terrorismo allerta anche per le sagre e manifestazioni. Di taglio alto a Castellalto la scazzottata tra tifosi al festival della birra. E poi tutti i riassunti domani riapre il McDonald's di Colonnella. Questi titoli di apertura prima di vedere anche i titoli dei quotidiani nazionali come sempre il consiglio delle nostre stelle. Vediamo. Ariete, afflitti dal timore di perdere terreno, rischiate di ingigantire i problemi del momento, siate obiettivi ed evitate di assumere toni di sfida con le persone vicine e colleghi di lavoro. Complicazioni in amore. Toro. Nonostante Saturno contro, i pianeti veloci in segni d'aria vi garantiscono ottimi risultati per i vostri affari, compresi quelli di cuore. Nella professione basterà il minimo sforzo per ottenere risultati brillanti, di grande soddisfazione. Gemelli. La giornata si prospetta davvero molto movimentata, piena di impegni ma anche di opportunità. Un incontro stuzzicante soddisfa il vostro desiderio di novità. In serata, una cena tra amici alla quale non potete assolutamente mancare. Cancro. Se pensate di aver dato tanto e ricevuto poco, chiedetevi se avete mai ascoltato le ragioni degli altri o se non avete fatto sempre tutto da soli. Meglio fare un esame di coscienza prima di trarre conclusioni affrettate. Leone. La luna vi rassicura e asseconderete l'astuta tendenza a lasciare che le cose succedano da sole. In società vi muoverete con disivoltura anche fra persone nuove o estranea il vostro ambiente. Non accontentatevi della solita routine. Vergine. Terrete in alta considerazione l'opinione di un amico o di un parente senza per questo lasciarvi condizionare nelle vostre scelte. Piccole e grandi soddisfazioni si prevedono in ambito affettivo. Una vecchia amicizia potrà consolidarsi in qualcosa di più. Bilancia. Siete decisi ad espandervi, a crescere e ad ottenere risultati di rilievo, concreti e tangibili. La luna vi sarà di aiuto per costruire il vostro avvenire lavorativo su basi solidissime. Se siete single, non lasciatevi sfuggire l'occasione di un incontro. Scorpione. Issata la bandiera dell'indipendenza, siete pronti a difendere con le unghie e con i denti le vostre scelte, sia personali che professionali. Accettate le novità che vi attendono in questo giorno. Potrebbero avere risvolti esaltanti. Sagittario. È vero che la luna vi offre tutto il suo appoggio, ma farete meglio a essere prudenti. Un amore che crea troppi problemi deve farvi riflettere. Le discussioni degli ultimi giorni e un partner capriccioso minacciano la vostra serenità. Capricorno. Pianeti dispettosi rendono turbolento questo giorno. Gli imprevisti non si contano e il nervosismo sale. Ora dopo ora non vale la pena perdere il controllo. Salute ed energia fisica potrebbero accusare un calo di livello. Rilassatevi. Acquario. Sarete soddisfatti dei risultati ottenuti in campo lavorativo. La vostra efficienza verrà apprezzata anche da chi è piuttosto avaro di lodi. Buone notizie per i single. un nuovo amore vi porterà a trovare pace. Pesci. Lasciate che il destino oggi mischi le carte per voi secondo i suoi tempi e non avrete certo di che lamentarvi. Godetevi quello che vi viene senza pensarci troppo. Basta che sappiate quello che state facendo. Ora vediamo i titoli di apertura dei quotidiani nazionali. Iniziamo dalle pagine del Corriere della Sera. L'Isis. Un pericolo anche per voi. Aiutateci adesso. Intervista con il primo ministro libico Serrai. A centropagina il vertice Erdogan da Putin a San Pietroburgo. Un messaggio chiaro all'Occidente. E poi le riforme. Referendum parte la sfida. Renzi accusa la minoranza. Sbagliai a personalizzare i poveri. 500 milioni. La Repubblica Sirte e anche soldati italiani al nostro fianco contro l'Isis. I comandanti libici. Forze speciali ci addestrano nello sminamento. E poi le Olimpiadi. Tra record e polemiche. Chi può giudicare il corpo delle atlete. Il vertice Putin-Erdogan da nemici a nuovi alleati. Subito via le sanzioni. La stampa sala tende per i migranti a Milano. Per il sindaco è possibile usare anche le caserme o l'ex villaggio Expo. Maroni frena. L'allarme dopo i blocchi. Di come 20 miglia ma non faremo accampamenti. Il centrodestra invece va all'attacco. E poi Putin fa pace con Erdogan. Cancello le sanzioni. Il messaggero allarme sbarchi. Soldi ai comuni. Il governo affronta l'emergenza migranti. Più incentivi ai sindaci che accolgono i profughi. Piano Viminale Anci. 25 extracomunitari. Ogni mille abitanti. Il no. Di molte amministrazioni. E poi Erdogan e Putin. L'intesa ritrovata. Collaborazione su energia e difesa. Il referendum Renzi personalizzare è stato un errore. Il premier. Così si risparmi per i poveri. Bufera sulla Boschi. Per gli attacchi al no. Il fatto quotidiano. Titola carta straccia. La Boschi è incostituzionale. La ministra straparla. Chi vota no è contro il Parlamento. Renzi disperato. Se vinco il referendum. 500 milioni risparmiati per i poveri. E poi servizietto pubblico. TV. Fuori un altro. Cacciato pure Luca Mercalli da Rai 3. Il tempo. Privilegi nel Lazio. Le auto sono sempre più blu. I mezzi della regione doppiano quelli della Lombardia. In Italia sono 23.000. Quasi 1.500 in più rispetto all'anno scorso. E poi il nuovo polo a rischio default. Fiera di Roma. Primo scontro. Raggi. Zingaretti. Bocciata la mozione di Fassina in bilico. Il referendum per le Olimpiadi 2024. 24. L'unità titola 48 ore. Due milioni di civili ad Aleppo sotto i ribelli o i governativi allo stremo. Senza elettricità e senza acqua. L'ONU chiede una tregua umanitaria. Due giorni per riparare impianti e dare cibo e medicine. Centropagina. Renzi con il sì. 500 milioni contro la povertà. E poi migranti. Sala non si spaventa. Usiamo caserme vuote. Di spalla Putin e Erdogan. Mano tesa e insieme sfidano l'Occidente. Libero titola Roma cialtrona perché la gente odia la politica. Il Campidoglio ha debiti per 12 miliardi. Trasporti pubblici sono uno sfacello. Il dramma dell'immondizia resta irrisolto. Ma c'è chi pensa alle Olimpiadi senza avere i soldi per organizzarle. Servirebbero 11 miliardi e mezzo. E poi perché i nostri campioni non difendono Schwarz. I nostri capoccioni non difendono Schwarz. Il campione che l'Italia ha abbandonato. I precedenti dei rivoltosi pro immigrati di 20 miglia. Relazioni pericolose tra i no global e i terroristi rossi. Il gazzettino. Banca. 16 mila posti a rischio. Credito allarme dei sindacati. I prepensionamenti coprono solo 9 mila lavoratori. Già chiusi 4 mila sportelli. Veneto. Banca. CGL. Cisl. Dicono sia sinergie con popolare Vicenza. Ma non parliamo di fusioni. E poi la fotonotizia. La Turchia apre il gas russo. C'è pace tra Putin ed Erdogan. Il manifesto. L'ultima goccia. Il governo di Damasco. Le opposizioni laiche. Islamiste. Ammassano armi e migliaia di uomini ad Aleppo. La città che potrebbe decidere la guerra. Flusso ininterrotto di artiglieria dalla Turchia. le Nazioni Unite fanno appello per una tregua umanitaria immediata. Due milioni di persone sono senza acqua. Comincia la demolizione del no. La Boschi dice non rispetta il Parlamento. Ora invece andiamo sulle pagine del centro. Iniziamo anche qui dalle pagine nazionali. Si parla dell'emergenza e migrazione. Milano. Migliaia di arrivi. Ora c'è l'ipotesi tendopoli. Il sindaco Sala non la esclude. Il presidente della Lombardia. Maroni lo attacca. Centinaia di migranti bivaccano a Comola. Svizzera ha blindato il confine. E poi Italia-Francia al via trasferimenti dal confine di 20 miglia. Scarcerati. In no border. Arrestati. Di taglio basso. Loim. Le catombe. Non si arresta. Mediterraneo. Oltre 3.000 morti. Dati drammatici del 2016. Più della metà voleva sbarcare in Italia. Gli scenari internazionali tra Erdogan e Putin. Torna il sereno. Vertice a San Pietroburgo fra il sultano e lo zar. Riprendono gli affari ma nessuna decisione sul capitolo Assad. Appello dell'ONU per Aleppo. Due milioni di civili sono senza cibo nel luce e nell'inferno dei raid. L'offensiva contro l'IS bombe usa per riconquistare Sirte. Il sottosegretario Amendola in Libia dice appoggio al governo Sarrai. Economia in odi. Pensione anticipata con mutuo bancario errate per 20 anni. Flessibilità previdenziale in uscita secondo le anticipazioni. Interessi ridotti o annullati per effetto delle detrazioni. E poi l'intervista alla riforma Fornero è stata iniqua a intervenire ora sulle classi deboli. Michele Raitano, docente alla Sapienza, esprime un giudizio positivo. L'innalzamento dell'età ha danneggiato i giovani. Secondo trimestre il PIL al ribasso il governo rifà i conti. Le previsioni annunciate prevedono stime in calo e BTP al minimo. E poi lo scontro politico. La campagna di Renzi colsi più soldi ai poveri. Il Premier annuncia che farà assegnare 500 milioni al sostegno ai ceti disagiati ma le opposizioni attaccano al PD che incasserà mezzo miliardo di rimborsi. Rifiuti a Roma oggi la resa dei conti. Consiglio comunale straordinario. Io sull'assessore Paolo Muraro. Il Movimento 5 Stelle la difende. Di taglio basso la pubblica amministrazione arriva alla stretta sui dirigenti. Oggi in Consiglio dei Ministri decreti figli della riforma Madia. A terra per un malore il sedicenne investito in villaggio ad Ostuni. Quando l'auto è sopraggiunta il ragazzo era già svenuto. L'animatore turistico indagato per lesioni colpose gravissime. E poi il caso di Mazzara del Vallo. La coppia uccisa. Il killer si ammazza. Ritrovato il corpo di un tunisino. Il delitto legato a un debito di droga. A Torino notava i domiciliari in tenda. Il PM si oppone alla decisione del GIP. Quel camping tana di attivisti. La pagina dell'Abruzzo si apre con il caso della gestione dell'ACA. Di Baldassarre lascia. L'ACA cerca il successore. L'amministratore firma l'avviso per le candidature. A settembre la selezione. Il sindaco di Francavilla Luciani dichiara ora ci vuole un manager a tempo pieno. E poi l'Abruzzo Lavoro pubblicate sul sito. Le graduatorie. Sono state pubblicate sul sito di Abruzzo Lavoro le graduatorie provvisorie del bando 30+. Per la regione calamità fondi dal governo previsti 117 milioni in due anni. Andiamo avanti sulla pagina di Pescara. Colle Pineta 40 famiglie sono in ostaggio di due pitbull. E il caso riporta a un altro caso, quello del delitto perfetto. Appartengono a madre e figlio in carcere dal 23 luglio per il tentato omicidio con il Cumadin. L'appello dei residenti che dicono i cani vivono in mezzo agli escrementi. Sono rabbiosi e uno di loro ha già scavalcato l'inferriata saltando addosso a un cittadino. È pronto l'esposto. Se nessuno interverrà per risolvere la situazione e gli animali non saranno affidati ad un canile, presenteremo un esposto in procura. Segnalazioni ovunque. Abbiamo inviato appelli a vigili urbani, carabinieri, polizia e ASL. Le condizioni igienico-sanitarie sono allarmanti. E poi i proprietari dei cani chiedono la libertà. Sono in carcere dallo scorso 23 luglio. Madre e figlio rispettivamente, Daniela Lorusso e Michele Gruosso, con l'accusa di aver tentato di uccidere il marito di lei, somministrandogli di nascosto e ripetutamente un farmaco anticoagulante che, abbinata a un'aggressione organizzata dai due, ne avrebbe dovuto accelerare le lesioni interne per accelerare la morte. È proprio in via notturno, dove è esploso il problema di cani abbandonati nella casa lasciata vuota dalla donna, che sabato 23 luglio erano andati i carabinieri con l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP Gianluca Sarandrea. Il caso del rapimento e dell'aggressione dei due ragazzi arrestati confessa dopo l'arresto e dice che è stata una ragazzata davanti al GIP Bellia, mette sequestro, rapina e acquisto di droga. Ora ai domiciliari D'Amico nega e resta in carcere. Pierluigi Bellia dice cocaina acquistata a Rancitelli con i soldi del 29enne rapito. Omar D'Amico, nessuna costrizione, tutti gli spostamenti erano concordati. Queste le dichiarazioni. I due ragazzi di penne feriti durante la notte bianca. Dietro al pestaggio ci sarebbe la lite per un accendino. Un'indagine dei NAS. Vermi negli spiedini comprati al market. Marito, moglie incinta e figlio finiscono in ospedale per sospetta intossicazione. Dopo aver mangiato, la carne è presa a Montesilvano. Vermi negli spiedini di Tacchine. L'allarme che una famiglia pescarese ha fatto scattare due sere fa, dopo aver cucinato e mangiato degli spiedini acquistati in un supermercato di Montesilvano, che non è stato reso noto. Marito, moglie e figlio hanno chiesto di essere visitati all'ospedale di Pescare per una sospetta intossicazione alimentare. Da lì è partita la segnalazione. I carabinieri del NAS, che hanno raggiunto il punto vendita, prelevato la carne dello stesso tipo e avviato gli accertamenti per capire se i prodotti presenti nei frigoriferi contenessero davvero dei vermi. È morto il costruttore Pagliaroli, stroncato da un infarto. Aveva 69 anni. Oggi alle 16 si svolgeranno i funerali a Cappelle. E poi ieri l'ennesimo sgombero. Fari nell'area di Risulta e controlli anche di sera. Siamo sempre sulle cronache di Pescare. I disperati continuano ad accamparsi tra le aiuole dell'area di Risulta. I vigili replicano con gli sgomberi e ora anche con i controlli serali e con i fari. Aumenta il livello di attenzione sull'area di Risulta, spiegano il sindaco Alessandrini e il vice sindaco del Vecchio. Non ci limiteremo a questo. Le criticità dell'area di Risulta, le difficoltà che quotidianamente si registrano da tempo, ci hanno sollecitato ad attivare una serie di ulteriori iniziative volte ad assicurare decoro e sicurezza. Lasciamo ora le pagine dei quotidiani. Ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo e lo facciamo con il nostro esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. È la notte di San Lorenzo quella che si avvicina ed è la notte delle stelle cadenti. E allora la domanda è, sarà possibile vedere le stelle questa notte? Diciamo che ci sarà probabilmente della nuvolosità a disturbare questa bellissima cerata. Purtroppo, dico purtroppo perché come avevamo già annunciato nei giorni scorsi, sulla nostra penisola sono in arrivo delle correnti atlantiche che portano con sé annuvolamenti, rovesci e un generale calo delle temperature. Al momento la nostra penisola non è interessata, è interessata dalla nuvolosità e dall'area fresca, splende il sole e splenderà il sole nelle prossime ore su gran parte del territorio regionale. Tuttavia la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità perché sulle regioni settentrionali sta transitando un'intensa perturbazione che sta dando luogo a frequenti manifestazioni temporalesche. Questa perturbazione gradualmente nelle prossime ore interesserà Toscana, Umbria e Marche e nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio favorirà con tutta probabilità un aumento dell'instabilità anche sulla nostra regione che si tradurrà con addensamenti consistenti sulle zone montuose nel pomeriggio, tardo pomeriggio, localmente associati a dei rovesci anche a carattere temporalesco. In estensione verso il settore orientale della nostra regione, quindi sulle zone pedemontane e culinari che si affacciano sul versante triatico. Probabilmente risulteranno probabili soprattutto nel Terramano e nel Pescarese i fenomeni e occasionalmente qualche rovescio e qualche temporale potrebbe sconfinare fin verso le aree costiere. Nel tardo pomeriggio, nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio inoltre è previsto un progressivo rinforzo dei venti, dei quadranti settentrionali, non si escudono forti raffiche, in particolar modo lungo la fascia costiera. Nella giornata di domani invece il tempo continuerà ad essere comunque caratterizzato da un cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con degli addensamenti consistenti associati a delle precipitazioni, ma la caratteristica principale di questo peggioramento sarà proprio la generale diminuzione delle temperature perché arriveranno massi d'aria fresca che raggiungeranno la nostra regione, con venti in rinforzo dai quadranti settentrionali nel corso della giornata di giovedì, molto ondoso in deciso aumento e, ripeto, temperatura in sensibile diminuzione. Fortunatamente però c'è anche una buona notizia perché questa situazione di instabilità, con tempo fresco instabile, tenderà gradualmente ad attenuarsi nella giornata di venerdì, ma ancora più nel fine settimana perché è prevista la rimonta di un promontorio di alta pressione che con tutta probabilità dovrebbe garantire tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche nella giornata di domenica e probabilmente anche nella giornata di ferragosto. Quindi questa è la tendenza degli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, anche se ovviamente per la situazione di ferragosto ci torneremo su nel corso dei prossimi giorni. Francesca. Giovanni, prima di salutarci come sempre noi ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo, iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org. Eccolo qui, e ringraziamo Claudio Di Giacomo in regia, qui troverete tutti i bollettini aggiornati nel corso delle ore. E come segnaliamo, quelle che vedete sulla destra sono le quattro telecamere sulle quattro province abruzzesi, così da monitorare in tempo reale quello che succede su tutta la nostra regione. Noi suggeriamo anche due profili Facebook, uno si chiama proprio Abruzzo Meteo, eccolo qua, e troverete tutto quello che è presente sul sito, i bollettini, le informazioni diffuse da Giovanni nel corso della giornata. E suggeriamo anche il suo profilo personale, perché qui troverete qualche curiosità in più. La foto scattata alle prime luci dell'alba, dove Giovanni insegna anche i gradi registrati in quel momento, ricordiamo scattata da Montesilvano, ed è utile capire un po' per capire l'avvio di giornata. Sempre su questa pagina troverete gli strumenti di rilevazione meteo, che sono interessanti per gli appassionati, per capire un po' come funziona questo lavoro. E poi troverete importanti le segnalazioni di altri utenti, cioè foto e video postati sulla sua bacheca per segnalare particolari situazioni incontrate sul proprio tragitto, utili per Giovanni per conoscere la situazione sul nostro territorio e dall'altra anche per tutti quanti gli utenti che sono connessi alla sua pagina. Quindi noi la suggeriamo per muoversi sempre informati e sicuri. Giovanni, come sempre io ti ringrazio per il tuo intervento che tornerà puntuale domani mattina alle 7.20 e ti auguro una buona giornata. Grazie Francesca, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie, grazie Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Torniamo sulle pagine del centro, c'è una cerimonia New York, guardate. L'Oscar dei Prof 2016 è assegnato a Sar Giacomo. Il docente dell'adannunzio si aggiudica il riconoscimento internazionale più prestigioso della sua disciplina e il coronamento della mia carriera, dichiara. I progetti in corso, lavoro alla storia delle banche, ci sarà molto da scrivere, dice. Confcommercio al Comune, Corso Vittorio a doppio senso, si riapre la querela, i negozianti chiedono la riapertura al traffico anche in direzione sud. E poi la Chiesa del Sacro Cuore, siamo sempre sul corso principale di Pescara, salvi battesimi e comunioni. L'arcivescovo riceve fedeli che avevano protestato e prende tempo. Per ora resta tutto uguale, il santuario sarà il centro propulsore della diocesi. E poi uno studente temerario volerà sul mare con 350 palloncini. Francavilla si definisce Capitano Italia, il diciassettenne che venerdì sperimenterà un suo progetto presso lo stabilimento La Bussola. Andiamo a Montesilvano, donna cade sul pontile, chiuso l'ingresso alla spiaggia libera, protestano anziani e invalidi rimasti senza accesso al mare, ma la passerella non è più sicura. Cilli dichiara la riapriremo presto. E poi stanziati altri 780 mila euro il distretto Asla appalto al Comune. Maragno e Mancini firmano una convenzione sugli ultimi lavori. Pronti 140 mila euro per migliorare l'asilo nido di Popoli. Il Comune ha ottenuto i fondi per l'adeguamento sismico della struttura di via Tiburtina. I lavori avverranno a fine anno scolastico. Colle Corvino, un incidente in auto, ferite mamma e figlie, un dramma. In prognosi riservata alla donna, ricoverata anche una delle bambine. E poi guardate, di Marzinella si continua a parlare nel sessantesimo anniversario dalla tragedia, appenne c'è un sopravvissuto che racconta la tragedia. La pagina di L'Aquila visita Lampo a Carzoli, Papa Bergoglio, prima volta in Abruzzo. Il pontefice ospite delle suore del convento di San Francesco, le preghiere, il pasto e poi una passeggiata nel parco. Un incidente a Collarmele, schianto in moto, è grave un 52enne. L'uomo portato all'Aquila, ferito anche un automobilista di Pratola. Di taglio basso il marzicano che vende gelati agli eschimesi. Valerio Venti ha una gelateria in Finlandia. 600 coni al giorno e 250 mila euro di fatturato l'anno. Questa è la storia. A Chieti, Ferragosso negli ospedali, stop a visite, programmate i laboratori. Piano dell'Asl provinciale per le ferie del personale. Non si fermano pronto soccorso, ricoveri e attività di reparto. E poi un'altra notizia. Trema il Molise e c'è paura nel Vastese. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 alle 21.52 fra Larino e Casa Calenda. Ci fermiamo per una piccola pausa e poi torniamo per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Seconda parte della nostra rassegna stampa. Ora andiamo sulle pagine del messaggero. La notizia è quella che l'Abruzzo ha un nuovo piano sociale. 200 milioni di euro per il triennio. Le perplessità espresse dalle opposizioni, specie sulla copertura economica, sono state soddisfatte. L'assessore Marinella Sclocco si è detta emozionata per l'atto più importante del suo mandato. E poi c'è una polemica. Ieri, come vediamo, si è svolto il Consiglio regionale ed ecco di spalle una polemica. Troppe assenze è stato richiamato il governatore Luciano D'Alfonso. Di Pangrazio ha scritto al governatore richiamandola una maggiore presenza in aula. Tre assenze consecutive sono davvero troppe, specie dopo la debacle sulla sanità, con la necessità di dare, se non attuazione, almeno una risposta politica al voto del Consiglio. E le figuracce sul progetto Toto sottolineano le opposizioni. E poi, sempre rivolto al governatore D'Abruzzo, arriva una dichiarazione da parte dell'ordine dei giornalisti e anche del sindacato. Diritto di critica insopprimibile. Intervento sul caso del blog, ma però attaccato da D'Alfonso. Il presidente Pallotta e il segretario Durante dicono no a intimidatorie richieste risarcitorie. Il legittimo esercizio di critica giornalistica che un giornalista che ha un diritto insopprimibile non può costituire elemento di intimidatorie richieste risarcitorie per presupposti danni alla nomina e mera distinzione di un ruolo di carica. A sostenerla il presidente regionale dell'ordine dei giornalisti, Stefano Pallotta, e il segretario del sindacato dei giornalisti abruzzesi, Paolo Durante, a proposito, come riferiscono i due, dell'azione di rivalza da parte del presidente della giunta regionale, Luciano D'Alfonso, nei confronti di una giornalista, Lilli Mandara, per articoli e commenti pubblicati su il blog. Andiamo sulla pagina Facebook del governatore D'Abruzzo, perché questa notizia, scorriamo, arriva perché il presidente pubblica un atto ed è esattamente quello rivolto alla richiesta risarcitoria verso la giornalista in causa. Se noi scendiamo ci sono proprio i documenti che dimostrano quella che è stata la richiesta da parte del governatore nei confronti... No, ancora più giù dobbiamo andare. Eccola qua. E qua viene scritto. E proprio per la pubblicazione di questo atto, che è la richiesta fatta dal presidente della regione in base agli articoli scritti, che esce questa presa di posizione da parte del sindacato dei giornalisti e anche il presidente dell'ordine dei giornalisti. Andiamo avanti, sempre sulle pagine del messaggero. Andiamo a Pescara, si torna a parlare della balneabilità. Tutti al mare, oggi, tuffi liberi, revocate dal sindaco, le ordinanze del fine settimana. Scaduti i termini di sicurezza dopo gli sversamenti fognari. Bagnanti disorientati, mentre continua la zuffa politica. Il PD contro l'ACA, un ente pubblico, deve pensare alla sicurezza. Alla base dei divieti, il blackout degli impianti di sollevamento e l'eccezionale pioggia di sabato. E poi la Clebaus bianco-azzurra al marina per promuovere i prodotti abruzzesi. Il taglio del nastro, dove vediamo il presidente Daniele Sebastiani, il presidente della Camera di Commercio Daniele Becci e anche di Tecco. Andiamo sempre sulle pagine del messaggero e si torna a parlare, come avevamo visto anche sulle pagine del centro, del rapimento di un giovane che è poi finito con l'arresto dei suoi due sequestratori. Che dicono, dopo l'interrogatorio, sequestro e botte? Una ragazzata, Pierluigi Bellia, confessa l'aggressione al trentenne di Chieti. Rapinato e costretto a pagare una fornitura di cocaina. È finita i domiciliari, resta in cella il complice, Omar D'Amico, per il GIP allarmante, la particolare inclinazione alla violenza. Gli arresti sono convalidati per i protagonisti dell'agguato, la versione fornita sarà verificata dalla squadra mobile. E poi la sorpresa nel piatto, vermi negli spiedini, nas al supermercato, è la cronaca su Montesilvano. Vigili dopo gli sgomberi, posto fisso all'area di risulta. Prosegue la lotta al degrado, servizi mirati contro spaccio e prostituzione, spiega il sindaco. In attesa del piano di riqualificazione, il comune punta a contrastare bivacchi e degrado della ex stazione. Rock and Dance, operazione Ferragosto, il concerto dei Chemical Brothers, venerdì all'antistadio. Si annuncia come uno degli appuntamenti clou dell'estate. Il comune lancia gli appuntamenti del ponte, il 15 in musica da balla all'Arena del Mare e il concerto di Paola Turci. Il via stasera con il White Wedding in Piazza Salotto, grande attesa sabato per la finale di Miss Adriatico. E poi ancora per il cartellone degli appuntamenti estivi a Montesilvano ci sarà la notte blu, shopping e passeggio. L'Aquila accoccia due università, un vantaggio per la città. Il neoeletto rettore ha festeggiato con una trasferta in Ruanda per lavoro, dovrà lasciare il posto di professore ordinario all'Ateneo di Tor Vergata. Il Gran Sasso Institute è una sorta di un prototipo che potrebbe fare scuola a livello nazionale. Di spalla morto a 83 anni lo storico commerciante Oscar Graziani. E poi si schianta contro un'ambulanza e cerca di disfarsi del metadone a Verona. E ovviamente il protagonista è un abruzzese, un aquilano di 22 anni che in Corso Milano, lungo via Galvani, nel centro storico della città scaligera, si è reso responsabile alcuni giorni fa di un incidente stradale. Infermiere aggredita, sentenza pilota, in caso la decisione del giudice del lavoro potrebbe fare da apripista ad altre analoghe. Lo stadio di Acquasanta, pronte le telecamere, domani la rete elettrica, riconsegnate al Comune i lavori per la videosorveglianza, ha bypassato il problema Enel della vecchia cabina nell'edificio della FIGC. Con la capienza a 4.999 spettatori, sarà più agevole l'iter per avere l'agibilità dell'impianto. E poi il como calcio fallito il curatore è un aquilano. Anche qui la notizia del Papa che fa visita alle suore di Poggio Cinolfo. Il pontefice si è trattenuto dalle 11 alle 15 nel convento che porta il suo nome, accompagnato dal vescovo di Rieti. Secondo quanto è trapelato dallo stretto riservo, molta preghiera, molti colloqui e poi anche un riposino. Una suora del monastero ha rilasciato queste dichiarazioni, Francesco chiama Francesco, è così semplice. E l'arrivo del Papa è avvenuto dopo un invito. La spiegazione è che per il convento di San Francesco, gestito dalle suore riparatrici del Santo Volto, dove c'è stato l'incontro con il vescovo di Rieti, Domenico Pompili. Sua eminenza aveva caldamente invitato sua santità in virtù del nome di quel luogo sacro, Francesco. Spiega una suora, quattro suore delle quali solo una italiana, la visita era stata voluta anche dal compianto cardinale Fiorenzo Angelini, al quale venne conferita la cittadinanza onoraria Carzoli proprio perché amava quei luoghi. La sanatoria per l'abuso nella casa parcheggia sul Mona, vicenda paradossale che finisce agli atti della Procura della Repubblica. Chieti, De Meis, dopo sette mesi c'è ancora il cantiere. I lavori già prorogati di 30 giorni dovevano essere ultimati entro oggi. Sulla nuova sede nell'ex ospedale militare si spinge per i progetti definitivo ed esecutivo. Non c'è pace per la biblioteca provinciale a 11 anni dal crollo di una palazzina. E poi la sanità, lo stop a radioterapia, Olivieri dice via Flacco. Andiamo sulla pagina dedicata al lavoro. I metalmeccanici, ferie tra luci e ombre a Lanciano, i 10.000 operai stavolta ritroveranno il posto di lavoro. Già chiusa la catena di montaggio della Onda Italia, alla Sevel i cancelli chiuderanno venerdì, ma il periodo sarà ridottissimo perché la produzione del Ducato va forte. Il sindacalista Labrozzi ha dichiarato purtroppo nessuno ha potuto organizzarsi in famiglia. E poi a vasto la notte bianca fa scoppiare la polemica sui decibel. La pagina di Teramo Castellani, via ai lavori, sarà come una tangenziale. Il sindaco Brucchi ha dichiarato un progetto che era partito già otto anni fa. Si prevede traffico decongestionato da Villa Mosca fino alla zona Università. Gli espropri sono stati tutti finalmente pagati, tante critiche, ma in pochi hanno capito che serviva. E poi di spalla Teramo e Virtus si dividono l'Acqua Santa. C'è stato un accordo. Vega Facility Management, maestranse oggi dal prefetto per l'avvertenza e poi la sentenza alla distrazione di fondi, società condannata. I giudici contabili dell'Aquila hanno stabilito 162 mila euro di sanzioni alla HQL Bioedilizia SAS. Il caso a Giulianova, vandalismi e sesso tra le tombe, un assalto notturno al cimitero di Via Prato. I gnoti sono penetrati distruggendo un centinaio di portalampade staccate dai loculi. È stata presentata dalla società Patrimonio ai Carabinieri una denuncia contro i gnoti. Valvibrata dalla visione delle stelle alle notti calde, tutti gli eventi con il galà della moda. Tortoreto e Corropoli, la sagra della vongola, tanta musica, a Martinsicuro. E poi ancora cronaca, alba adriatica, il buttafuori del gatto pardo, sono sotto accusa per aggressione. Andiamo sulle pagine del quotidiano La Città. E ci spostiamo per vedere quelle che sono ovviamente le pagine dedicate all'Abruzzo. In apertura c'è la Santa Alleanza Regione Cacciatori. Il delegato regionale del WWF, Luciano Di Tizio, spiega la dimostrazione nella gestione inadeguata dei cinghiali. Nella nota diffusa le associazioni rilevano come le colpe non siano da attribuire alle aree protette, ma interamente alla politica e alle istituzioni rappresentative. Per gli ambientalisti è impossibile l'organizzazione dell'attività faunistico-venatoria. E poi anche qui giornalismo e potere. D'Alfonso cita a giudizio la giornalista e i giornalisti replicano insopprimibile il diritto alla cronaca. Ordine sindacato, bacchettano il governatore sul caso, ma però denuncia il gatto pardo, lo staff del desartista aggredito dai buttafuori. Bariste e baristi picchiati dalla sicurezza del locale a fine serata, in dieci finiscono al pronto soccorso. Secondo il racconto hanno dichiarato ci hanno cacciato dal locale con urla e spintoni e poi ci hanno aggrediti, colpite anche alcune delle nostre ragazze. Per i ragazzi ancora sotto shock e prognosi da 7 a 20 giorni sono scattate le prime denunce per lesioni. Utili e impieghi in aumento per BCC Basciano. Mentre le banche italiane presentano un calo dei profitti, l'istituto di credito Terramano è in perfetta salute. Vicino al territorio l'istituto di credito continua ad essere uno stimolo per l'economia con un più 3,43% degli impieghi. E poi il caso aperto un procedimento interno, anche la Digo si indaga sul fatto, la doppia indagine sull'auto Asla in via Irelli. Entro primavera la bretella per Villa Mosca annuncia Brucchi e Fracassa che visitano il cantiere di Via Franchi. In otto anni abbiamo decongestionato Terramo. Il percorso si parte da Via Franchi dopo aver passato la sede Inail, si risale fino a via delle Plaie. La sicurezza allerta per il terrorismo anche nel Terramano, manifestazioni pubbliche e sedi di giornali, obiettivi sensibili che spingono la prefettura alla luce della tragedia di Nizza con 85 persone uccise in un attentato terroristico lo scorso 14 luglio. A tenere alta la guardia sollecitano le forze dell'ordine, i sindaci e i direttori dei giornali alla massima attenzione. Questa è la nota del prefetto di Terramo, Graziella Patrizzi. Edilizia riparte il mercato aspettando i lavori pubblici. Segnali di miglioramento nei dati della Cassa Edile, ma il rilancio passa per il Master Plan e ricostruzione. Monte Salariale dopo il crollo degli ultimi anni, il Monte Salari degli impiegati in Edilizia torna a crescere del 5%. E poi il Comune assente all'ultimo saluto al partigiano Salvatore Tirabovi. I funerali nella chiesa della Madonna delle Grazie era la cerimonia per l'ultimo eroe della battaglia di Bosco Martese. Ancora sulle pagine della città, la pagina dedicata alla provincia, motivi calcistici dietro la rissa di Castellalto. Dietro la scazzottata durante il Festival delle Birre ci sarebbe la rivalità tra Terramo e Giulianova. Le indagini condotte dai cannabinieri della compagnia di Giulianova che hanno interrogato testimoni e stanno visionando le riprese delle telecamere presenti nel centro storico per risalire all'identità dei ragazzi autori della rissa di domenica notte. Il sindaco Di Marco minimizza l'episodio ribadendo la serietà degli organizzatori della manifestazione. E poi a Montorio pubblicato il nuovo bando per l'affidamento della piscina comunale. La chiusura era stata imposta dal vecchio gestore dopo l'avvertenza per i mancati pagamenti degli stipendi. Tende aperte al santuario di San Gabriele l'arrivo della fiaccola della speranza dato il via ieri sera alla 36esima tendopoli dei giovani. Guardate le immagini. E poi a Morrodoro nessuna risposta dagli enti ma alla moria di pesci nel laghetto. Il WWF torna a chiedere un intervento dopo la tracimazione dell'invaso nuovo esposto presentato al genio civile. E poi a Colonnella domani riapre il McDonald's riassunti tutti i dipendenti finiti nei guai con la precedente gestione. A guidare il franchising di Colonnella sarà lo stesso gestore del punto vendita di San Benedetto. Per l'enogastronomia venerdì inizia la storica sagra di Torano Nuovo che è arrivata alla sua 47esima edizione per Paese del Gusto l'evento più longevo d'Abruzzo. L'ex Sada, ma Giulianova il progetto sta per decollare anche all'ex Foma. Il sindaco Mastro Mauro rassicura sulla sostenibilità dell'intervento di riqualificazione di via Trieste. La replica a Retco per messi scaduti non mi risulta, anzi gli uffici mi avrebbero avvisato, certamente. E poi a San Benedetto del Tronto in quattro tentano di rubargli l'auto e lo riempono di botte un marittimo giuliese aggredito sulla strada del porto. L'estate piatta di Silvi senza un concerto. L'idea è far rinascere l'antico Cursal. Dalle stagioni frizzanti degli anni 70 al mortorio serale di oggi serve una svolta. Il quadro rappresentato proprio di Silvi. E poi Abruzzo Civico impallina Paolucci e Monticelli sulle sorti del San Liberatore. Ad Atri parole, 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 solo parole, a impallinare il PD regionale sul destino dell'ospedale di Atri e l'ex sindaco di Atri Paolo Basilico di Abruzzo Civico. Dopo diversi tentativi andati a vuoti all'ospedale San Liberatore di Atri si è presentato l'assessore regionale alla Sanità Paolucci che l'8 ottobre 2011 sfilava come segretario regionale del PD con le migliaia di cittadini alla manifestazione Il San Liberatore non si tocca accompagnato dal consigliere regionale del Partito Democratico Luciano Monticelli. Appineto al carnevale estivo pinetese vincono gli anni 50. Migliaia di presenze alla manifestazione organizzativa da associazione e commercianti. La cultura Shakespeare a Valle Castellana per la notte delle paure omaggio al teatro del Bardo nello scenario dei Monti della Laga. L'estate del gusto anche Vittorio Sgarbi alla Sagra della Porchetta a Campli tutto pronto per la 45esima edizione della manifestazione che guarda anche ai libri e anche all'arte. E poi il viaggio nel passato genitori e bimbi pazzi per la ferrovia degli Altipiani. Domenica 7 agosto il treno storico da Sulmona a Roccarasa invaso da una maxi-comitiva di Terramani ed ecco il reportaggio fotografico. Apriamo la pagina dello sport con il Teramo, la Lega Pro. Teramo a Maddio non c'è l'accordo sul rinnovo. L'incontro negativo nella sede di Via Ober dà possibili aggiornamenti già oggi ma le parti sono lontanissime. Il summit in sede è presente all'incontro il giocatore in compagnia del suo procuratore Carlo Di Renzo e dall'altra parte il presidente Luciano Campitelli il DG Gianluca Scacchioli e il DS Fabio Lupo. Una fumata nera le due parti sono rimaste sulle medesime posizioni di una settimana fa e il rinnovo diventa sempre più incerto. E poi il girone di ferro non spaventa il Teramo servirà a massimo impegno. Tommaso Dorazio e Federico Carraro concordano le avversarie sono forti ma ce la giocheremo con tutte. Lasciamo le pagine del quotidiano La Città adesso torniamo su quelle del messaggero e anche qui apremo la pagina dello sport dove si parla di Saria e di calciomercato. Il Pescara Aquilani il Pescara insiste l'ex romanista tratta la buona uscita con lo sporting se la otterrà potrebbe firmare con i bianco-azzurri per il trequartista lotta a due tra Decker e Muric due giovani che giocano nella squadra B dell'Ajax. Per l'attacco torna di attualità il nome di Gaston Rodriguez Jomber più vicino oggi l'incontro con l'Inter per Verre. E allora si parla si parla ovviamente di calciomercato per il Pescara per quelli che sono ancora i nodi da sciogliere per le richieste del tecnico il resoconto lo facciamo con Jacopo Forcella vediamo Il Pescara lavora per riportare in Italia Alberto Aquilani il 32enne centrocampista romano e l'ultima idea è anche qualcosina di più del Delfino la rottura con il suo attuale club i portoghesi dello Sporting Lisbon ha convinto i bianco-azzurri a provare l'affondo per il Principino cresciuto nelle giovanili della Roma alle spalle di Daniele De Rossi ha attraversato dal 2004 in poi il goto del calcio italiano ovviamente prima con i giallorossi della prima era Luciano Spalletti poi l'esperienza oltremanica non proprio fortunata con il Liverpool il ritorno in padre in prestito prima con la Juventus e poi il passaggio in rosso-nero con il Milan la nuova giovinezza con la Fiorentina tre stagioni 81 presenza e 13 reti prima di emigrare di nuovo in Portogallo il Pescara ha avviato i contatti col giocatore e avrebbe già pronta l'offerta di un contratto di due anni per dare quantità ma soprattutto qualità alla mediana perché l'arrivo di Aquilani sarebbe davvero un gran colpo in attesa di vedere come verrà completato il reparto caldi ancora i nomi di Gnocuri e Grassi in difesa invece oltre all'ungherese Guzmich ci sono sviluppi sulla vicenda Gjomber il difensore della Roma è stato escluso dalla lista dei 23 nomi per il preliminare di Champions League contro il Porto l'ulteriore arrivo di Vermalen gli chiude ulteriormente una strada che sembrava comunque già sbarrata il Delfino lo aspetta per rinforzare la retroguardia oggi intanto giù il velo sulle nuove divise per la prossima stagione nella massima serie al Marina di Pescara proprio poche ore prima dell'amichevole contro la Vastese neopromossa in Serie D domani sera invece alle 20.30 la presentazione ufficiale della squadra che magari non vendrà ancora la rosa completa l'importante è che lo sia per lo start del campionato e ieri l'amichevole con il vasto tre gol ma Anni Castro va KO il Delfino vince 3-0 con Del Sole che compie due reti e Crisante ma Odo resta senza punte per la Team Cup anche qui la notizia sul Teramo è quella del mancato accordo con Amadio altra fumata nera con il Teramo dopo un lungo incontro per il rinnovo intanto Dorazio prenota un ruolo da protagonista voglio dimenticare le delusioni dell'anno scorso ci spostiamo sulle pagine del centro perché ovviamente la questione resta sul calciomercato sul Pescara l'ultimo test un passo indietro servono rinforzi urgenti a vasto vince 3-0 ma brilla solo del sole Oddo perde pure Nicastro e poi Colavitto squadra ordinata e bella il tecnico aragonese dice stiamo crescendo faremo bene e Sarni dice è uno stadio da rivedere e poi la presentazione delle nuove divise ecco la quale maglie per la serie A bianca azzurra gialla e poi blu e una quarta dedicata al Vicenza ovviamente per il gemellaggio il Teramo fumata grigia tra dirigenza e Amadio all'incontro di ieri sul prolungamento le parti sono usciti senza un accordo domani un nuovo test amichevole dei biancorossi sul campo del Morrodoro varata dalla Can Pro la squadra di arbitri assistenti della nuova stagione tra i 78 direttori di gara ci sono 4 abruzzesi mentre sono 9 su 162 quelli a bordo campo e poi la serie D chiedi la preparazione all'Angelini accordo col comune a 20 euro d'allenamento si aggregano i nero-verdi Fatone Scalibi e Sebastianelli e si rivede Costa e allora con lo sport come sempre noi concludiamo la nostra rassegna stampa prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14 invece la nostra rassegna stampa mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7 buona giornata grazie a tutti grazie a tutti